Quando vedo le cliniche della fertilità, il mio cuore sprofonda. Perché? Questo viene da un fanatismo. Che soltanto ciò che proviene dal tuo corpo può essere tuo. È un fanatismo. Perché? Questa persona, questa persona, questa persona non può essere tua. Perché non sono tue? Questo è ciò che significa essere umani. Questo è ciò che significa umanità. Che, se ne hai la volontà, puoi vivere qui senza alcun senso di confine. I confini non vengono fissati su di te dalla natura. È un confine inconsapevole e compulsivo che stai stabilendo per te stesso. Questo significa che non hai esplorato la dimensione dell'essere umani. Stai ancora cercando di agire come una creatura sul pianeta. Se esplori la dimensione di ciò che significa essere umani, vedrai. L'inclusione non significa biologia. Inclusione significa consapevolezza. Se questo giunge, se la consapevolezza si eleva, vedrai. Abbiamo centinaia di coppie che sono volontari Isha a tempo pieno e part-time. Nessuno di loro ha bambini. Hanno scelto di non averne. Perché ci sono, do loro, migliaia di bambini. Milioni, se vogliono, se sono pronti. Allora, dov'è il bisogno di identificarsi biologicamente con un bambino? Sto notando chiaramente chi applaude e chi no, va bene? Quindi, sto pensando a qualcosa di molto audace che mi renderà molto impopolare. Sto pensando di istituire un premio per tutte le giovani donne che sono in salute, che possono avere bambini, ma che scelgono di non averne. Oh, hai un bel sostegno per questo. Perché, che tu lo realizzi oggi oppure no, pensi che il problema sia il parcheggio? Pensi che il problema siano i rifiuti? Pensi che il problema sia la sanità? No. Il problema è la popolazione. Non ci sono altri problemi. Non ci sono altre problemi.